Salve a tutti, siamo qui oggi con il dottor Matteo Rampin, psichiatra, psicoterapeuta, esperto di terapie brevi, con cui oggi voglio andare a parlare di alcuni argomenti rispetto alle terapie brevi, poiché è autore di diversi libri sull'argomento. Buongiorno a tutti, grazie per aver invitato. Iniziamo? Prego. Allora, uno dei suoi campi di studio è proprio quello del linguaggio del cambiamento, volendo utilizzare il titolo di un famoso libro di Paul Watzlawick, in altre parole come aiutare l'altro a cambiare usando le parole. Nel suo libro, bellissimo, terapie apparentemente magiche, lei fece una cosa molto interessante, analizzò le trascrizioni di diversi terapeuti brevi, molto famosi all'epoca, in generale nella storia delle terapie brevi, per andare a vedere quali erano le loro tecniche e tattiche, anche comunicative, per aiutare le persone a cambiare. In particolare, peraltro ricordo anche il suo consiglio sull'andare a analizzare i discorsi dei grandi oratori. Allora, la mia prima domanda è questa. Quali sono dei terapeuti e dei comunicatori, in generale, che l'hanno particolarmente colpita per il loro uso della comunicazione e che insegnamenti le hanno trasmesso, che le sono poi stato utili all'interno del suo lavoro con i pazienti? È una domanda ardua. Vorrei rispondere però in una maniera un po' strana, forse, e cioè ho imparato molto da persone che non esercitavano la psicoterapia o non la esercitavano in forma ufficiale. Ho imparato molto da persone che facevano altri mestieri ed erano però dei comunicatori straordinari. Il primo grandissimo comunicatore, in cui io mi sono imbattuto, fu un supplente di educazione fisica, di ginnastica, si diceva a quell'epoca, in prima media. E questo venne dentro in palestra e venne solo due volte. Però lasciò su tutti noi un'impronta indelebile per il modo in cui fu capace di sovvertire tutti gli schemi, i paradigmi di come si pone un insegnante nei confronti dei ragazzi, ragazzini, adolescenti. Esercitava, si chiamava Paride, mi ricordo, questo insegnante. E lui era capace di sfruttare al massimo l'effetto di prima impressione, credo. Perché i primi secondi, l'impatto che ha esercitato su tutti noi, sono stati veramente incisivi. Da lui ho imparato questo, cioè l'importanza che può dare la prima impressione. Naturalmente l'effetto di prima impressione che lui esercitava, fece tutto il contrario di quello che uno si sarebbe dovuto aspettare. E quindi dal modo in cui si relazionava col bidello della palestra, al modo in cui si relazionava con noi, al modo in cui ci diceva che cosa fare o cosa non fare. E non si può descrivere, anche perché sono passati i 40 e rotti anni. Però ecco, la caratteristica tipica di tutto il suo agire era questo rompere gli schemi. Allora, quando si rompono gli schemi all'istante, nel primo istante in cui si interagisce con una persona, da quel momento in poi la persona si aspetterà sempre che gli schemi vengano interrotti o sospesi in qualche maniera. E da lui ho imparato questo. Un altro ambito molto importante dal quale si può ancora, credo, imparare la comunicazione spinta, avanzata, è quello dei religiosi. Allora Nietzsche, sappiamo che diceva che i migliori psicologi sono i preti. Si riferiva ai preti di quell'epoca, perché adesso ho idea che sia più raro trovarne di così bravi. E non parlava di psicologi, nel senso di persone laureate in psicologia, parlava di persone che appartenendo al clero erano, sono, meno, ma comunque continuano a essere i depositari di una sapienza bimillenaria su come funziona l'animo umano, la natura umana. Allora io per molti anni, quando studiavo medicina a Padova, frequentavo anche settimanalmente un religioso, un monaco, un frate della Basilica di Sant'Antonio, che era padre Giovanni Luisetto, che confessava alle sei del mattino e uno arrivava lì dentro per parlare con lui e trovava già la fila di decine di persone, quasi tutti studenti universitari. E lui cosa faceva? Lui era capace di dire le cose in una maniera quasi come se fossero scolpite nell'aria. Lui riusciva a essere estremamente essenziale, estremamente sicuro delle cose che enunciava, perché non erano cose sue naturalmente, lui citava gli autori che erano Sant'Agostino, le Sacre Scritture eccetera, ma lo faceva senza avere l'atteggiamento dell'autoritas. Allora da lui ho imparato la differenza tra autorevolezza e autorità, che è anche una cosa di cui si parla spesso. Lui comunque sanciva delle verità, però erano calate dall'alto senza essere calate dall'alto. Quindi anche qui c'era una coesistenza degli opposti che mi pare sia una caratteristica tipica dei grandi comunicatori. Un altro religioso tuttora vivente, molto anziano, è un altro francescano che adesso vive a Urbino, che è padre Livio Zanin, il quale mi ha colpito invece per un'altra cosa straordinaria che era la sua capacità dell'ascoltare le persone, ascoltarle sul serio. Allora quando uno ti dice guarda se hai bisogno di parlarmi vieni a mezzogiorno e poi resta lì, lui restava con la persona in questa stanza fino alle tre del pomeriggio, senza mangiare, ok? Né lui né chi va. Allora l'attenzione focalizzata e persistente e permanente nel tempo, la capacità di ascolto di questa persona come anche dell'altro di cui parlavo un attimo fa e quindi la piena disponibilità ad ascoltare la persona, ad ascoltarla sul serio. Questa è una cosa che dopo forse casomai ci torniamo perché l'ascolto non è una tecnica, deve essere mosso da un impulso reale a mettersi a disposizione dell'altra persona. Poi se dobbiamo guardare a delle autorità nel campo della comunicazione allora io andrei molto indietro nel tempo e consiglierei a tutti i terapeuti di studiare a fondo il modo in cui Seneca comunicava, ok? Lui scrive lettere molto famose e le lettere noi dobbiamo considerare che fossero l'equivalente di una telefonata o di una cosa Skype eccetera al giorno d'oggi. Parlava con persone molto lontane quindi scriveva lettere, ma scrivere significa pensare esattamente a quello che dici, significa coltivare il labor lime, cioè l'ingegno, la fatica con cui tu devi limare le cose che dici, le cose che scrivi, prosciugarle dalle cose inutili, arrivare all'essenziale, metterle in forme che ti si imprimano nella memoria e quindi da Seneca io ho cominciato a studiare e imparare, magari avessi imparato, comunque studio la sintesi, la pertinenza, la coerenza nelle cose che si dicono. E infine se dovessi parlare di comunicatori in epoca più recente credo Winston Churchill per anche lui la pregnanza e la fulmineità nell'espressione dei concetti, il modo in cui una frase possa imprimersi nella memoria di generazioni insomma deve essere studiato perché questi autori sono menieri inesauribili che nei mestieri fondati sulla comunicazione debbono per forza essere continuamente studiate. Fantastico, ci rivedo tutti gli elementi che poi ovviamente possiamo ricondurre al lavoro che facciamo con i nostri pazienti. C'è un aspetto in particolare che affascina sempre molto gli psicologi, gli psicoterapeuti che è quello del linguaggio analogico o linguaggio evocativo, linguaggio dell'emisfero destro come sto chiamato in diverse situazioni. Cioè quel linguaggio che utilizza molto le immagini, le figure, le retoriche, le metafore, ma anche gli aforismi, le citazioni eccetera. È un linguaggio che spesso viene, delle forme comunicative che spesso vengono utilizzate per creare una risonanza emotiva nella persona se non proprio per far avviare un primo cambiamento percettivo o anche a livello proprio di comportamento. Ora la cosa più difficile a mio parere è proprio quella del riuscire a sapere come costruire un linguaggio comunicativo, efficace, di tipo evocativo. Può darci qualche suggerimento magari anche in base a alcune situazioni che tipicamente si ritrovano all'interno della terapia? Sì, parto dalle ultime cose, dalle ultime parole della domanda e cioè tipicamente nella terapia e cioè sempre nella terapia ci si trova a che fare con una persona o più persone che soffrono. Questo è quello che connota la terapia. La terapia è un atto curativo e si cura una persona che soffre, d'accordo? Poi il grado di sofferenza può essere da lieve a gravissimo. L'atteggiamento che deve avere il terapeuta nei confronti della persona è quello che si deve avere nei confronti della persona sofferente, cioè una situazione che ha del sacro, del sacrale, è una situazione nella quale noi ci dobbiamo, noi terapeuti, ci dobbiamo accostare con estrema attenzione e prudenza. E quindi tutti i discorsi interessantissimi e giustissimi sulla tipologia di frasi, di parole, di comunicazione non verbale che debbono essere scelte e adattate al paziente e quindi un linguaggio da emisfero destro, un linguaggio suggestivo, un linguaggio performativo eccetera, discendono necessariamente dall'atteggiamento interiore del terapeuta quando si colloca di fronte alla persona che soffre. E questo atteggiamento deve essere di assoluta dedizione e di assoluto rispetto sul piano umano, sul piano etico, sul piano dei valori, sul piano dei principi. Se c'è questo ne scaturisce la capacità di porsi in contatto sul serio con la persona e di ascoltarla sul serio e quindi l'elemento tecnico che può essere veramente coltivato all'infinito perché è un mestiere nel quale non si finisce mai naturalmente di imparare. L'elemento tecnico perde, se vogliamo, di importanza a mano a mano che assume importanza, a mano a mano che la punta della matita si affila è importante che ci sia anche la capacità di manovrarla questa matita, cioè sapere dove si deve portare il paziente. Allora chi ha un orientamento strategico sa che lo deve portare verso l'ampliamento delle risorse cioè l'aumento numerico dei gradi di libertà. Questo è il dogma al quale eticamente noi siamo vincolati. Per fare questo è necessario avere una disposizione tale per cui al paziente in quella singola seduta, in quel singolo momento si annette tutta l'importanza possibile e anche di più. Se uno ha questo atteggiamento interiore automaticamente ne discende la capacità di sintonizzarsi con il paziente perché c'è una disponibilità all'ascolto che diventa veramente un diaframma che si amplia tantissimo. A quel punto è facile captare quali sono le cose che risuonano in profondità nel paziente. Quindi diciamo che più che una serie di linee guida o di suggerimenti tecnici su come si possa individuare il linguaggio più adeguato al paziente, dovremmo lavorare su quello che precede questo. Cioè consideriamo chi è la persona. È una persona che sta male. e dà a noi la responsabilità di gestire questo male, questa sofferenza. Persona, coppia, persona che parla di altre, persone che stanno male, ok, genitori, di minori, eccetera, eccetera. Però è una questione di postura, se vogliamo, esistenziale del terapeuta che viene prima della capacità, dell'abilità nel selezionare le frasi giuste, le modalità giuste di enunciarle, eccetera. Ok, quindi è come dire, tutti sono bravi, possono diventare capaci a imparare delle formule. La disposizione... Allora, se io sono veramente interessato al paziente, il paziente lo sa, lo sente, lo scopre. Se io simulo un interesse, il paziente se ne accorge all'istante, perché il paziente viene da noi con la pelle scoperta, ha i nervi a fior di pelle, come un sismografo capta, in virtù del fatto che soffre, capta qualsiasi indizio di artificio. Allora tutto può essere simulato in terapia e i terapeuti sono anche attori in alcuni momenti. Ma l'interesse non può essere simulato, non c'è verso. Allora l'interesse, l'autenticità, e cioè io esisto qui in questo momento per te, questo non può essere simulato. Il paziente se ne accorgerebbe e non ci sarebbe nessuna vera terapia, ci sarebbe l'uso di tecniche. Lo lasciamo ad altre professionalità questo. Fantastico. Una delle difficoltà principali in terapia, o comunque ricorrenti, è il fatto della gestione della cosiddetta resistenza. Certo, si affronta la resistenza al cambiamento del paziente. Anche qui ci sono delle forme linguistiche, dei modi di porsi a livello comunicativo che il terapeuta breve può mettere in atto. Io nei suoi libri ho anche trovato degli esempi che lei ha fatto per aggirare, utilizzare o anche prescrivere addirittura la resistenza. A questo punto vi sento anche di dire, posto che la base deve essere quella che ci ha detto precedentemente. Ci sarebbe se potesse farci qualche esempio di queste forme comunicative in modo da imparare a gestire questi o altri modi in cui la resistenza si gesta. Naturalmente allora stiamo parlando dell'ambito strategico e quindi Ericsson, Watzlawick, Nardone, il quale si basa, ambito, sul costrutto di tentata soluzione che mantiene un problema, per cui la sospensione delle tentate soluzioni sblocca la situazione problematica e il paziente accede a un numero maggiore di moduli comportamentali. Ma la regola universale per inibire o bloccare le tentate soluzioni è prescrivere il problema. Naturalmente se io mi applico a peggiorare la mia situazione o a indurre deliberatamente il problema, perciò stesso sto sospendendo le tentate soluzioni e quindi poiché le tentate soluzioni inducono la persistenza del problema, questa decada e il problema scompare in estrema sintesi. Questo è il filone. Non è facile naturalmente in pochi minuti suggerire tattiche, posto che questa è la strategia generale. Però forse c'è una categoria che merita di essere studiata ed è una categoria che uso molto spesso e che è molto in linea con il paradosso, perché naturalmente prescrivere il sintomo è una espressione della logica strategica, che è la logica paradossale. Lutwak, lo studioso, lo stratega politico, spiega bene come la strategia, la logica strategica, cioè la logica che sottende i conflitti tra volontà opposte, sia sempre una logica che si basa sul paradosso e noi in terapia lo vediamo in continuazione. Ma molto affine al paradosso è un'intera categoria di tecniche o di dispositivi o di procedure o di espedienti, se vogliamo, ed è quella dell'umorismo. ossia l'induzione di una reazione spassosa, divertita, una risata, un sorriso come chiave per istantaneamente o in tempi molto rapidi ristrutturare un problema, ristrutturare uno stato d'animo, indurre uno stato d'animo, un'emozione differente da quella che alleggiava nell'aria fino un attimo prima. L'umorismo in tutte le sue varie applicazioni che naturalmente deve basarsi prima di tutto sulla capacità del terapeuta di ridere di se stesso. L'umorismo non è ridere del paziente o della sua situazione di persona sofferente. L'umorismo però consente di riconfigurare l'importanza dei problemi, di collocarla su uno sfondo più ampio e lo fa sempre giocando sul filo del paradosso. Non so definire che cosa renda umoristica una cosa, una comunicazione, ci hanno provato in tanti, non sarò di sicuro io. Ancora è quasi impossibile dare una definizione di che cosa renda umoristica, una comunicazione, una relazione, una frase, un'espressione. Non ci provo nemmeno, però il potere che una barzelletta, un'allusione, un'espressione, un viraggio istantaneo, uno slittamento lo chiamo io, cioè il passare da un'atmosfera emotiva a un'altra che è incongrua con la precedente, il potere che hanno queste manovre, se vogliamo, è formidabile perché permette al paziente di rendersi conto che la realtà può essere esaminata, letta, descritta, definita da tantissimi punti di vista e non dal suo unico, singolo punto di vista che proprio perché è singolo ed è unico è ciò che immobilizza il paziente. Il paziente è tale perché non riesce a vedere la realtà da altri punti di vista che dal suo, con l'umorismo si riesce a far vedere la realtà da altri punti di vista. Naturalmente è molto difficile essere umoristici e non significa far battute a caso e la cosa più difficile forse è il tempismo, cioè il trovare il momento giusto, il ritmo giusto. È come quando si raccontano le barzellette, se una persona sbaglia di un micro secondo la conclusione, la barzelletta non fa ridere. Se un tizio vuole a tutti i costi raccontare una barzelletta e gli altri non hanno voglia, non fa ridere perché è il momento che è sbagliato. Quindi tutto il discorso sulla comicità e sulla comicità in terapia dovrebbe essere studiato dal punto di vista della gestione dei tempi, il timing, lo chiamano le persone dello spettacolo. La gestione dei tempi, i tempi comici in questo caso è una cosa che può essere studiata, può essere appresa, studiando i comici naturalmente. Allora forse questo potrebbe essere, quindi l'umorismo come muoversi sul filo del paradosso, su quello che è vero ma simultaneamente non lo è. E quindi in violazione dei principi, prima di Aristotele, del principio di identità, di non contraddizione, momentaneamente. L'irruzione di una irrazionalità però controllata. Fantastica. Grazie. In diversi libri sulla psicoterapia lei cita anche l'illusionismo con cui si confronta da cultore da ormai diversi tanti anni, tantissimi anni. Io stesso affascinato peraltro dai suoi parallelismi tra ciò che avviene in psicoterapia e ciò che avviene sulla scena dell'illusionismo, sono andato a farmi un corso da illusionismo, sono assolutamente un direttante, però l'ho trovato molto utile per poi il mio lavoro in studio. Volevo chiederle se può dirci che cos'è secondo lei che hanno in comune illusionismo e psicoterapia nel lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta. L'illusionismo, cioè l'arte dei prestigiatori, ha molti aspetti in comune con la psicoterapia e ne parlano molti autori dell'ambito costruttivista strategico. Milton Erickson fa spesso riferimento ai giochi di prestigio e lui è quello che coglie, forse meglio di tutti, il nocciolo della questione quando paragona la sua ipnosi al controllo dei fulcri dell'attenzione. Lui dice tutta l'ipnosi si riduce al controllo dei fulcri dell'attenzione. Allora non c'è nessun'altra attività umana come quella dell'illusionista che riveli quanto sia difficile ma efficace ottenere il controllo dell'attenzione efficace dopo che l'hai ottenuto. Il prestigiatore sposta l'attenzione altrove rispetto al posto dove effettua la manovra che deve essere nascosta e lo fa senza che l'osservatore si renda conto che la sua attenzione viene catturata e spostata altrove. Quindi c'è un doppio spostamento dell'attenzione. Il primo spostamento dalla mano che nasconde la pallina e l'altro spostamento dal fatto che viene nascosto spostamento dell'attenzione su spostamento dell'attenzione. Il concetto di spostamento dell'attenzione o di spostamento dei fulcri dell'attenzione è centrale in tutta l'ipnosi ericksoniana anche nell'ipnosi classica se vogliamo perché quando Charcot e i company spostavano il sintomo della paziente isterica la paralisi isterica dal braccio destro al braccio sinistro e poi la mano sinistra e poi il mignolo sinistro e poi l'ultima falange del mignolo sinistro era comunque uno spostamento dell'attenzione, una focalizzazione dell'attenzione che naturalmente Milton Erickson ha traslato la sua ipnosi in tutt'altra forma. Lo spostamento dell'attenzione è anche quello che stava alla base delle prime applicazioni del modello statunitense della scuola di Palo Alto fatte dalla scuola di Arezzo, di Giorgio Nardone, la piruetta e queste manovre con le quali il paziente riusciva a essere portato altrove rispetto a dove c'era la sua tentata soluzione fondamentalmente. La prima analogia tra illusionismo e psicoterapia breve di matrice ericksoniana e costruttivista strategica è questo, lo spostamento dell'attenzione. Poi ce n'è un altro ed è il fatto che l'illusionista per mettere in scena i suoi giochi di prestigio che sono simulazioni perfettamente persuasive di violazioni delle leggi della natura deve impostare nella testa dello spettatore il problema in una maniera erronea. Cioè il prestigiatore fa sì che lo spettatore risolva il problema sbagliato, cioè pone le premesse di un problema dopodiché l'osservatore, lo spettatore vede quel problema e muovendosi all'interno di quelle premesse pur utilizzando la logica più rigorosa non potrà risolvere il problema per cui alla fine accade un evento che contraddice le premesse e quindi ne scaturisce la sorpresa, lo stupore, la meraviglia. Non si capisce com'è possibile che sia accaduta questa cosa. Non si può capire perché questa cosa non è mai accaduta. Questa cosa non è mai accaduta perché quello che l'osservatore aveva visto come premessa non era ciò che è accaduto. Quindi all'interno di una premessa vengono inseriti degli errori invisibili, nascosti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il prestigiatore che inventa un gioco di prestigio, che studia i giochi di prestigio si abitua a vedere le cose da prospettive molto simili a quelle corrispondenti alla realtà, cioè vede le cose con una grande affinità alla verità, però le vede con uno scarto millimetrico tale per cui il problema può anche essere impostato e letto in un'altra maniera. Allora siccome nella terapia breve non c'è soltanto il linguaggio, c'è anche la scelta, l'adozione di mosse, di prescrizioni, di contenuti che devono essere veicolati, allora bisogna selezionare anche questi. Per farlo occorre partire da premesse che devono essere molto simili, quasi sovrapponibili a quelle del paziente, però non possono essere identiche, altrimenti non possiamo aiutarlo. Dobbiamo riuscire a impostare il problema che lui ci pone in una maniera nuova e per farlo bisogna riuscire a pensare fuori dagli schemi, se vogliamo, rompere i paradigmi, anche qui. Cosa abbastanza ardua. Credo che l'illusionismo sia un'ottima palestra per chi vuole imparare una forma di problem setting, si chiamano, con locuzione anglosassone, per imparare una forma di posizionamento delle premesse di un problema che sia svincolata dal livello istantaneo, immediato e banale della lettura dei fatti. È una risposta abbastanza fumosa, però fumo e specchi, fa parte dei giochi di prestigio. Ok, non dico fantastico. Ecco, dopo sto mio commento su me stesso, se vuoi lo tagli, vedi tu. Vediamo, vediamo, perché dà un colore di realtà. Esatto. Allora, come ultima domanda, le vorrei chiedere in realtà un suggerimento per chi ci ascolta. Immagini di dover pensare a un esercizio, un'esercitazione, a suggerire agli psicologi, in generale agli psicoterapeuti che ci ascoltano, che permetta loro di allenare una competenza, allenarla nella vita quotidiana di tutti i giorni, quindi fare una pratica al di fuori dello studio, competenza che può essere loro utile per poi il lavoro in studio con i propri pazienti. Quale sarebbe questa competenza e quale sarebbe l'esercitazione che gli suggerirebbe? Posto che con un mestiere di questo tipo qua bisogna sempre, sempre imparare e quindi ci sono varie competenze che possono essere sviluppate, ne suggerisco alcune. La prima che mi viene in mente è iscriversi a un corso di pronto soccorso, perché questo sviluppa una capacità di dare priorità ad alcune cose. Questa è la forma mentis del soccorritore. Ci sono alcune funzioni vitali da preservare, di tutto il resto uno se ne può occupare dopo. È una gerarchia di valori, se vogliamo, di importanza, ok? Questa è una forma mentis che viene insegnata attivamente e passivamente si acquisisce quando si fanno i corsi di pronto intervento, pronto soccorso, che possono essere utili a tutte le persone. Un'altra pratica molto utile è la musica, la musica d'insieme, fatta assieme ad altre persone. Chi non sa suonare uno strumento può andare a cantare in un coro. Che cosa vuol dire cantare in un coro? Vuol dire essere capaci di ascoltare, perché non puoi entrare nel momento sbagliato. Essere capaci di fondere la tua individualità assieme a quella degli altri, perché non puoi spiccare e fare la prima donna. Sei in un coro, non sei il soprano, il tenore, sei in un coro. La capacità di ascoltare che cosa è una dissonanza, che cosa è una consonanza. La capacità di eseguire, di obbedire, se vogliamo, alle indicazioni del direttore del coro, che sono quasi sempre di tipo non verbale. La capacità di affinarsi, affinare una propria sensibilità sulle questioni ritmiche, sulle pause, sui silenzi. In generale sarebbe ottima cosa per ogni terapeuta coltivare la propria voce. Ci sono dei professionisti oggi, vocal trainer, che si occupano della voce. La voce è uno strumento musicale, la voce. E in terapia, se uno la usa male, si priva di una gran componente persuasiva, retorica, di influenzamento. Quindi l'uso, la frequenza di un coro, può essere una pratica molto interessante. Sempre per rimanere nell'ambito così artistico spettacolare, e rifacendomi a quello che dicevamo in precedenza sui tempi comici, il cabaret. Questa forma di spettacolo, sempre più rara adesso, ma in televisione ce n'è molte, l'artista di cabaret è sempre uno che improvvisa un po' sul canovaccio, in base a quello che succede in platea. E questo sensibilizza sulla nozione di tempi comici e di tempi di reazione. Il terapeuta non può prendersi un'ora prima di rispondere al paziente. Il paziente a volte gli chiede, esige una risposta. E le risposte naturalmente non devono essere date a caso, altrimenti non è psicoterapia, ma è parlare al bar tra amici. Allora bisogna anche imparare a rispondere in maniera rapida. Questa cosa è difficile. Dove la si può imparare? La si può imparare dagli artisti del cabaret. Quali testi studiare? Dicevamo prima Seneca, Churchill. Le sceneggiature dei film. Ci sono dei film hollywoodiani o di altre produzioni che sono dei capolavori dal punto di vista della sceneggiatura. Alcuni possono essere studiati, spezzettati, perché bisognerebbe a volte impararli a memoria. Soprattutto nei dialoghi, gli sceneggiatori, quelli grossi, quelli importanti, sanno come costruire un dialogo. Il loro scopo è influenzare lo spettatore in modo da fargli avere una reazione emotiva, un cambiamento, una illuminazione, un insight, qualche cosa di questo tipo. Allora il dialogo nei film fatti bene è molto formativo e quindi questa è un'altra cosa che si dovrebbe studiare. Naturalmente poi chinarsi umilmente sullo studio dei classici, dei classici intendo degli autori che sapevano parlare, che sapevano mettere in fila delle argomentazioni e che sapevano, e qui concludo, anche fornire dei contenuti e non solo una bella forma retorica o sofistica o da giochi di prestigio fatti con le parole. Perché sapevano, Seneca, le sacre scritture, un concentrato di psicologia che merita continuamente, come una miniera, la Bibbia, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, scavare in questi depositi di sapienza, chinandosi umilmente sui testi e fare un lavoro da studenti, anche se uno ha 50, 60, 70, 80 anni, non si finisce mai di imparare. Ecco, e sui contenuti forse si potrebbe spendere qualche cenno sul fatto che in psicoterapia credo sia necessario sempre ricordare che c'è una componente etica che non può essere banalmente ridotta a una sorta di relativismo etico per cui va bene tutto. Noi viviamo in un'epoca nella quale vige questo monito che non si deve giudicare, no? Bisogna stare molto attenti perché può essere scivolosa la cosa. Se viene da me un paziente che ha mal di pancia, io, in quanto medico, devo capire se ha un'appendicite, perché se non lo capisco gli va in peritonite e muore. Allora io devo giudicare, nel senso devo diagnosticare, devo avere le idee chiare. Non posso dire sarà quel che sarà o... Allora, anche in terapia psicologica e in psicoterapia, il terapeuta deve avere una sua etica, deve sapere esattamente cos'è il bene e il male del paziente, altrimenti si rischia grosso. Dottor Rampin, grazie, è stato veramente illuminante. Ci ha dato anche qualcosa che potremmo coltivare e far crescere. Grazie a voi. Per il tempo che corre. Di nuovo, spero di averla di nuovo per altre interviste, altre formazioni. Grazie. Grazie. Bocca al lupo. Crepi. Vedo più di prima case esistenziali di giovani. Eh sì, soprattutto. Allora, perché quelli che hanno problemi si fanno queste domande. Quindi quelli che vedi tu in quanto terapeuta sono quelli che hanno problemi emotivi, disagio psicologici, psichiatrici. E questi se le fanno le domande. Forse hanno problemi perché si fanno le domande, ok? Cioè, se uno si rimbambisce di fesserie che lo distraggono continuamente, non incappa mai nelle domande canoniche. Cosa ci sto a fare? Perché devo far fatica? Perché devo far fatica? È il mio maglione, è la mia giacca che mi lascia piume. L'uomo è un bipede senza piume e senza corna, diceva Aristotele. Le corna, spero di no, le piume però, a quanto pare.